Un'altra tragedia, un nuovo dramma, questa volta a Misilmeri, paese alle porte di Palermo. Ivan Irrera, 38 anni, poliziotto della squadra mobile, ha sparato con la pistola di ordinanza al figlio di 7 anni un colpo alla fronte, poi si è suicidato sparandosi alla tempia. Il bambino è stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale civico dove i medici stanno tentando di tutto per salvarlo. La polizia sta cercando di ricostruire il perché di una tragedia che ha sconvolto ancora una volta i poliziotti della mobile. E' il terzo suicidio negli ultimi 4 anni di un investigatore delle sezioni speciali di Piazza Vittoria. Nessuno dei numerosi colleghi di Irrera, accorsi in ospedale, davanti alla casa della gente, riesce a spiegarsi il perché del gesto. Al Misilmeri, in via P3, nella zona di Piano Stoppa, regnano stupore ed incredulità. Domani dovevano partire per la comunione di un nipote, racconta un collega. Era sempre solare, allegro, nulla poteva far presagire la tragedia. Amava i suoi figli e la moglie. Non riusciamo a credere che abbia potuto fare questo. Non ha mai parlato di problemi economici. In casa si trovava anche la moglie del poliziotto che, appena sentito l'esplosione di due colpi di pistola, si è precipitata nella stanza del figlio. Lì ha trovato il marito a terra, morto. Solo dopo ha capito che il bambino di 7 anni ancora nel suo lettino era ferito alla testa e sanguinava. L'altra figlia si trovava a casa di un'amica dove aveva trascorso la notte. L'investigatore che prestava servizio alla sezione antirrapina sarebbe entrato nella stanza del figlioletto di 7 anni. Gli avrebbe sparato un colpo alla fronte mentre dormiva. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso. Secondo una prima ricostruzione a spingere la follia, l'investigatore potrebbero essere stati alcuni problemi economici. Il questore di Palermo, Nicola Zito, ha preso la notizia a sospeso gli incontri in programma per la festa della polizia. La polizia scientifica è a lavoro nella casa di Misilmeri mentre i parenti della coppia si trovano all'ospedale civico nella speranza che il bambino si salvi. Il proiettile calibro 9, esploso a distanza ravvicinata, gli ha trapassato il cranio procurando gli lesioni devastanti. È il secondo dramma della follia che coinvolge a Palermo in pochi giorni. Come si ricorderà mercoledì un rumeno residente in città ha ucciso la moglie e la coinquilina. Poi si è suicidato buttandosi sotto un treno. Grazie a tutti.